La parzelletta di Geppo Sul palco di un grande teatro c'è un cagnolino parlante che è più di un'ora che si sta esibendo fa stornelli, imitazioni, canta canzoni facendo venire giù il teatro a forza di applausi perché la gente non ha mai visto una cosa del genere tutti increduli, battono le mani, incredibili a un certo punto mentre questo cagnolino si sta esibendo, si apre la tenda e da dietro entra un cagnone enorme che a passo veloce arriva lì, pia questo cagnolino per la collottola e il suo porta via il pubblico comincia a andare invisibile a rumoreggiare tutti un po' delusi di questa cosa passano 5 minuti, dopo 5 minuti si riapre la tendina e riesce questo cagnolino che è un po' affannato arriva sul parco e fa così abbiate pazienza e mi padre dice che prima tu torna a scuola a prendere il diploma